Ciao a tutti, sono Silvia Bolognesi, sono qui per ricordarvi che stanno per ripartire i laboratori di improvvisazione della Open Orchestra che si tengono a Pisa Jazz. Da due anni questi laboratori sono in collaborazione tra Fonte Rossa e Blue Ring Improvisors, ovvero si tengono a Colle Valderza e anche a Pisa, nell'ambito di Pisa Jazz. Questi laboratori si possono frequentare singolarmente, quindi soltanto Colle o soltanto Pisa, oppure entrambi. Inizieranno a metà novembre, anche quest'anno abbiamo dei musicisti incredibili e avremo l'onore di poter lavorare con le composizioni scritte preparate per questo organico da Giancarlo Schiaffini, Claudio Riggio, Giovanni Maier, Fabrizio Puglisi, Cristiano Calcagnile, Gianluigi Trovesi e Marta Raviglia. Ci sarò anch'io e ci saranno anche i Blue Ring Unity, ovvero Tobia, Michele Bondesan e Giuseppe Sardina. Potete trovare tutte le informazioni che riguardano i laboratori su internet, basta scrivere Fonte Rossa, Mitz, Blue Ring, Fonte Rossa, Lab, Laboratori, sul sito di Pisa Jazz, trovate tutte le informazioni e potete contattare me o i Blue Ring Improviser se ne volete di più dettagliate. Quindi spero di vedervi molto presto. Ciao!